Signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai, io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale. Questa settimana sempre all'interno del nostro discorso del world building andremo a vedere come ogni aspetto e l'ambientazione deve essere preso in considerazione se si vuole creare un mondo di gioco coerente. Dato che in questo periodo stiamo parlando di cultura e società ritorniamo come nostro esempio pratico di ambientazione a parlare della grande ruota che è l'ambientazione per antonomasia di Dungeons and Dragons ma questa settimana ci sposteremo nei piani esterni per vedere come al di fuori di quella che è la normale realtà sono organizzate le società e soprattutto quali sono i gruppi di interesse dominanti. Questa settimana andiamo a parlare delle fazioni planari. Prima di cominciare a parlare delle fazioni vere e proprie bisogna fare un'importante premessa su dove esse operano e quali sono le caratteristiche principali e l'ambiente in cui si sono sviluppate. Il mese scorso quando abbiamo cominciato a parlare della grande ruota vi lascio qua sul video se dovete ancora andarlo a recuperare. Abbiamo detto che i piani esterni a differenza di quelli interni sono di natura molto più esoterica e più che essere governati dalle leggi della fisica sono pesantemente influenzate dal pensiero, dall'ideologia e dalla morale. Dei piani esterni poi parleremo nel dettaglio probabilmente in seguito. Quello che bisogna tenere a mente per ora è che la loro natura è tale che i piani esterni sono infiniti e anzi spesso al loro interno contengono altre strutture planari e altri strati a loro volta infiniti. Questo ovviamente è pensato per lasciare alla massima libertà creativa sia ai master che agli autori veri e propri delle storie di D&D. Qualunque cosa voi vogliate inserire nelle vostre avventure planari è teoricamente canonica semplicemente sta avvenendo in uno di questi spazi infiniti in cui per adesso non è ancora andato nessuno a controllare cosa c'è. Questo però per quanto sia utile al master, allo scrittore in fase di sviluppo dell'ambientazione crea anche una condizione che in un'ambientazione normale o comunque nel mondo reale non si potrà mai venire a creare cioè quella del potenziale accesso a risorse infinite. Nel mondo reale e nella maggior parte delle ambientazioni immaginarie le gruppi di interesse, le organizzazioni, anche proprio le culture si vengono a creare intorno alla disponibilità di determinate risorse che siano veri e propri beni materiali, che siano cose più astratte come conoscenze o capacità. Ma in un universo infinito che contiene quindi risorse infinite, un'organizzazione di questo tipo non ha senso. Per quanto qualcosa sia difficile da ottenere ce ne sarà comunque una quantità infinita a disposizione. Per che cosa combatte e attorno a cosa si raduna allora la gente nei piani esterni? E' qui che entra in gioco la natura stessa di quei piani. Nei piani esterni l'etica, la morale, l'ideologia e le convinzioni personali sono il potere definitivo. Nei piani esterni l'ideologia smuove le montagne e uccide gli dèi, in alcuni casi in maniera molto letterale. Sì, nei piani esterni le guerre si combattono effettivamente per motivi ideologici e non è l'ideologia usata come scusante per degli interessi economici. In un luogo dove un discorso di un abile oratore che faccia cambiare idea a molte persone è molto più devastante di un intero esercito, gli ideali sono il potere definitivo e chi li possiede può brandirli come una spada, anche in questo caso letteralmente brandirli come un'arma. Ed è per questo che nei piani esterni si sono venute a creare quelle che vengono semplicemente definite le fazioni, che più che gruppi di interesse economico o politico sono delle filosofie di vita organizzate, delle ideologie militanti o come spesso vengono definite gruppi di filosofi armati di randello. Le fazioni esistono per promulgare o temperare e diffondere al loro specifico ideale e servono anche come associazioni di mutuo aiuto per i membri delle fazioni stesse, individui che condividono la stessa ideologia e che all'interno della fazione possono trovare al di là di persone che la pensano allo stesso modo, cibo, riparo, protezione, organizzazione, risorse e ovviamente i membri della fazione in cambio lavorano per la fazione stessa principalmente per fornire servizi agli altri membri e promulgare il più possibile l'ideale della fazione. In base a un processo però molto simile a quello che avviene per i druidi che riescono ad acquisire potere direttamente dall'osservazione della venerazione della terra, per i membri delle fazioni partecipare alla vita di fazione e impegnarsi nell'organizzazione della propria stessa fazione è letteralmente una fonte di potere, più un membro è addentro al funzionamento della sua fazione e molto spesso più è alto il suo rivelo gerarchico, maggiori saranno le possibilità che lui possa cominciare a manifestare veri e propri poteri magici legati alla filosofia della sua fazione. Il grosso di questi individui eccezionali e in realtà di tutta l'influenza politica delle fazioni anche degli scontri verbali e non verbali con le altre fazioni si concentra a Sigil, la città dei portali, il luogo al centro della grande ruota in cui i membri delle fazioni spesso svolgono anche degli incarichi pubblici in cui le fazioni stesse sono parte del governo e la città. Ora, Sigil è un argomento sterminato, ne parleremo anche in questo caso probabilmente in un video più avanti perché ci sono molte cose da dire. Spiegare nel dettaglio ognuna delle fazioni richiederebbe un video per fazione, però per farvi capire di cosa parliamo cercherò di farvi una brevissima introduzione senza far durare il video troppo tempo. Cominciamo dagli Atar. Gli Atar credono che gli dei non abbiano alcun diritto di governare i mortali, per quanto siano esterni estremamente potenti si tratta semplicemente di persone e a quanto pare i loro sacerdoti guadagnano i poteri divini da una potenza ancora superiore che però non è né compresa né conosciuta. Gli Armonium credono che la pace e la prosperità possa essere raggiunta solo tramite una rigida organizzazione sociale, la loro organizzazione sociale. In realtà gli Armonium planari sono solo una parte di una fazione molto più estesa che governa un intero piano materiale dove hanno avuto origine. A Sigil vengono impiegati fondamentalmente come forza di polizia. Nemici mortali degli Armonium, gli anarchici della lega rivoluzionaria credono che l'ordine sociale sia semplicemente un costrutto umano che dovrebbe essere distrutto e superato, anche se non riescono effettivamente ad accordarsi su che cosa dovrebbe andare a sostituirlo. Se gli anarchici vi sembrano estremisti è perché non avete ancora incontrato i Sousitec che ritengono che l'unica verità nell'universo possa essere rivelata esclusivamente dalla contemplazione del caos più puro. Sono molto spesso definiti come semplicemente del tutto fuori di testa. La loro contraposizione principale è con la confraternita dell'ordine che invece crede che leggi e regolamenti abbiano un potere intrinseco e che possano dare potere a chi li pratica. A sigil hanno il compito di fornire fondamentalmente il corpo legale e gli avvocati. Tutte queste considerazioni sono al di là dell'interesse dei cinerei che credono che la vita e la morte siano soltanto stati temporanei e falsi. Ne sa qualcosa Gianni. I cinerei cercano la vera morte, cioè uno stato di mancanza totale di esistenza irreversibile. L'ordine trascendente invece cerca di raggiungere l'apoteosi mettendosi in sintonia con la vibrazione dei piani, qualsiasi cosa questo significhi. I predestinati si concentrano su cose molto più grette e materiali, loro ritengono che chi abbia la possibilità di ottenere qualcosa è destinato ad averla e quindi fondamentalmente il potere crea il diritto e chi non è in grado di difendere quello che ha non ha diritto a possederlo. La trista cabala annerga la natura esoterica dei piani, ritengono che l'universo abbia sì delle leggi fisiche ma che la morale e la filosofia siano solo delle sovrastrutture prive di senso. I mercy killer devono il loro nome al loro credo, non quello di uccidere la gente con misericordia, ma che la misericordia in sé sia qualcosa che debba cessare e chi prova misericordia e debole vada a essere ucciso. Se vi sembrava che gli altri fossero delle cattive persone, questi proprio. I sensiti della società del sensismo credono che l'unico modo per raggiungere l'illuminazione sia proprio esperire l'universo attraverso i propri sensi nella sua interezza. Per i custodi del fato tutto ciò che esiste è semplicemente temporaneo e l'unica realtà è l'entropia finale dell'universo. Quindi la cosa migliore da fare è accelerare la fine dell'universo, nel caso specifico creando e vendendo armi. Per i godsman dei credenti nella fonte la vita non è altro che una serie di sfide messa di fronte ai mortali che se superate li permetteranno di ascendere a uno stato di divinità. In alcuni casi ci hanno anche preso. Per i firmatari del segno dell'uno ognuno è il centro del proprio stesso universo e solo la propria realtà personale è quella che può essere definita vera. Considerati la più grande delle fazioni, anche se tecnicamente non sono una fazione, non sono organizzati, la lega libera contiene tutti quegli individui che ritiene che tutte le persone precedentemente citate forse non sono del tutto finite di testa e che ognuno dovrebbe farsi i propri interessi e cercare di vivere al meglio le proprie possibilità. Diciamo che per questo video è tutto, prendetelo solo come una mera introduzione perché sia sulle singole fazioni, sia sulla stessa sigile e di come l'ambientazione e la sua descrizione ne accentuino ancora di più la bizzarria c'è da fare video su video. Adesso non diventerà per ora una serie, per adesso ci contanziamo col wall building, vedremo poi più avanti. Intanto però adesso la parola sta a voi. Scrivetemi qui sotto nei commenti come voi avete organizzato le vostre società, le vostre fazioni, i vostri gruppi di interesse in base alle peculiarità della vostra ambientazione o come avete fallito nel farlo. Come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale, iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master CAE, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!